Oggi siamo su Fortnite e oggi proverò a fare le missioni Se trovo un cecchino o qualcosa così sarebbe molto meglio Direi, perché Non ho trovato niente, vabbè Io, perché ogni volta che mi fermo in questi punti mi uccidono Quindi me ne vado Subito qui a fare le missioni Vai Mmm, TikTok, tu glies, dei cani, vatti, bla 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 Un po' in mezzo Ah, no, forse, dico No, no No, no No, no Perché sei un mio giro di scar Ok Ok Basta Video E' ora di fare le missioni Sfide Devo uccidere un tizio da cinquanta metri Due Spero di trovare qualcosa Dopo Andate lì, va bene Tu tizio lo killo, voglio killarlo Quindi Un po' in mezzo Un po' in mezzo Un po' in mezzo Un po' in mezzo Vai, vai, vai Non sei l'unico camper tu Io Odio il camperale, porta di quella porta Ah, no, no Ce l'arrivo ancora Vai, mi prendo un po' di materiale e poi casco col tizio Ci scommetti E no Forse in quell'albero su Io l'ho visto atterrare su un albero Io l'ho visto atterrare su un albero Io sto andando a cercare uno scarpe perchè qualcuno me l'ha rubato Oh che c'è un zizio Oh che c'è un zizio Oh che c'è un zizio Porco troll Ci ci sta uno na, quante pa summer Prutto lurido pezzo di merda perchè devo succedere tutto a me perchè 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 vabbè il primo l'ho fatto un fail grandissimo no che pezzo di cacca vabbè c'è uno di pittà che palle vai subito pronto non me ne frega una minghe nemmeno una missione riesco a completare sto per sbloccare la maschera che figo nemmeno ancora quella missione va di lì tipo è pieno di gente mi distrago subito vabbè sto per raggiungere un mio amico e poi mi dicono che è inutile comprare il pass battaglia se faccio 10 livelli al giorno e poi mi distrago che mangiano stranamente finalmente partito balliamo tipo nel bus ci sarà un putiferio un pieno di gente se faccio quella missione non avrò più problemi spero di farlo meraviglia più bello del mondo vai ce la posso fa poi e spero tantissimo di farcela sono mincavolo un giocchino vi prego no guarda che sto registrando però di diversa categoria oh no ma che bello un lama le dinamiti servono per questo ecco per cosa servono le dinamiti ecco vai uso questa no tipo una mitra via 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 non puoi adesso voglio vedere una roba ma perché non va ma non c'è una prima vado qua e poi vado dritto qui un minuto devo andare lì per la missione vai vai una missione no l'avevo già fatta va bene qui Ward che vabbè si vabbè si vabbè sn si vabbè car вопросы si vabbè c ti vuole un po' di tempo mi ci metteremo un po io invece di annoiarmi tutto il tempo vado anche qui non è vero non ci vado più vai ma quanto è lento ora nessuno mi fermerà a parte gli alberi che vengono voi non mi prendete così non potete io ho reputazione non sono come voi vai ho un po di reputazione finalmente missione completata dello schifo se sentite il mio amico parlare io ho mutato un tizio e stanno parlando loro sembra un po' pazzo se ho mutato gli altri ma su creativa no tocca cagà tutti vogliono me perché io so tutto che su creativa si caga così può andare oh ma non urlare così tanto allora l'avete detto voi e lo volete che faccia una foto l'avete detto oh ma sei scemo 100% veramente prima di tutto non puoi parlare perché urli ogni secondo ora vado a prendermi un aereo sai perché vi dico non urlare primo sto facendo un video e secondo perché se urlate io credo che sento basso tipo bla 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 mi metto a urlare anch'io ecco urlano quando urlano gli altri vabbè no la sei via via per tutta la vita via uh 66 munizioni è buone io andrei a pennaco è lì per fare la missione va bene mezzo di cacca la missione parla di sparare con un veicolo e l'altra è di 50 metri uccidere qualcuno non sano e c'è un tizio io avevo visto un tizio qui perché sparo ma è che ne fai a me no a me no sai che faccio io me la campero qui e da qui potrò sparare per tutto quello che mi fa ma no ma l'abbiamo a toto oh ma non mi ha mai piaciuto per l'altro oh ma stai calmo così va meglio no eh i miei amici sono un po' fastidiosi ma vabbè cacchio mi basta che vai in 6 oh la stanno fai tanto duro vedo 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 io me ne vado così così io me la svigno da qui via tutta la vita ma non va ma non va ma che cacchio ha due di vita ha due di vita sta tizia aveva due di vita ha due di vita perché un palmovo non toglie 220 con un headshot perché me lo spiegate voi come cacchio è possibile che il pompa non toglie così tanto ma toglie pochissimo ora vabbè sì finalmente lo volevo da tanto questa roba ora almeno c'è tutto c'è tutto no mi metto le robe viola ma che blu sono belli mi dite cosa fa la differenza tra questo e questo me lo spiegate cosa fa la differenza vabbè lasciamo sta questo viola è meglio finalmente e mi sono fatto tra l'altro anche quella missione quindi ora c'è un'altra davvero settimana 2 è vero mi manca 50 metri di distanza dello schifo poi avrò questo al livello 80 devo spegnere no no dipende il mio obiettivo è arrivare al livello 80 ma vabbè 10 livelli al giorno è poco è tanto volevo dire oggi non ho nemmeno fatto un livello perché i miei amici mi davano un facile tremendo non mi lasciavano fare missioni ora vediamo che vabbè sta missione è impossibile ci provo distruggi i sedi e cerca lettere lettera S bla 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 più sedi io credo che ci sono erano prima vabbè lo sono sta pensando aspetta guardo su youtube come me aspetta dove si trova vabbè vabbè io provo da me stesso ad andare tipo non so non so nemmeno vado dove ho qui spennacoli lo vero più sedia no no vabbè faccio l'altra missione che devo uccidere posso fare colpo secco è vero posso fare il colpo secco è vero c'è una mira bruttissima c'è una mira bruttissima è che non vedo niente da dietro avevo poca batteria un troller ho dovuto andare anzi sai che faccio cambio il posto di controller mi metto qui così va meglio e così vedo più lusci nella tv ora miro più bene vai tutto sistemato mi siedo anche così la mia mira sarà più vai ciao va bene non parla sentite che lingua alla moda guardami livello 80 altri due giorni datemi no datemi ah si altri due giorni e completo tutte le missioni del path battaglia in due giorni hi ah i can play after i can play with you hello hello and your mom is gay and your mom is gay so you know that what? your mom is gay and 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 your mom is there and your mom is yo and your mom is gay as you are vado vado qui in questo posto bello e no usate tutti i miei trucchi e i coppioni la fambucio ora ballo io così impari o l'uridi pazzi che buce ho avuto ad ucciderlo tutta riuscire tutto c'avevo e qualunque si è messo a ballare che ridere che ho proprio da scemi e ballare in lì vabbè no comment devo andare lontano 5 metri è impossibile vai ora è un po più figo la maschera vai no non ce l'ho fatta ma perché non spiegate perché non valli vai ci provo stavolta ma stialberi io mi sto incavolando per colpa di stialberi lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale e ciao a tutti che fai